E ciao ragazzi sono Gala E io sono Marte Oggi video incredibile abbiamo voluto sfidarci O sfidarmi direi meglio Eh infatti sì perché io Taglio a pelle in 15 minuti Vedremo se ce la facciamo E quindi ragazzi guardate il video fino alla fine Mi raccomando lasciatevi un piaccio, commento, iscrivetevi Non abbiamo fatto Direi che possiamo partire con il video Ciao Marte sei pronta abbiamo un quarto d'ora Tu mi devi fare da cronometro Ragazzi siamo pronti Prima misura in mano Preparati perché veramente ti distruggo la testa Sì 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 certo Tu provaci Mi alzo e ti fico quel pettine dove non batte il sole E quindi 3, 2, 1 Check Sono velocissimo La testa te la spanto Marte Ora sono già passati 5 secondi 6 secondi, 7 secondi, 8 secondi Zitto ma c'è toccosa Non ho capito Non so mi buca il cervello Scusa 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 Non farlo apposta No sto sto giusto Non farlo apposta perché ti uccido Allora abbiamo passato la prima misura Ti sto stoccando Non fare faccia che poi sempre mi dimentiati Sto trucidando No non è vero Ma c'hai un po' di capelli bianchi Non lo so sto sto morendo No stasera Ti sto ammazzando No Ti faremo Solo un po' più delicatamente Come faccio? Veloce e delicato Non lo so Cosa pensi che sono un cavallo Veloce e delicato Non stanno bene insieme Ho capito Però devi essere delicato E veloce Per forza Bravo Sia carezza mille Tutte Sì Quanto tempo C'hai troppi capelli Sia carezza mille Guarda che ci siamo Siamo a 3 minuti e 30 secondi 3 minuti? Sì Ma è tantissimo Ci ho messo un bordello Ah è ritardo come al solito Allora siamo a 4 minuti e 10 Allora per dove siamo partiti Dobbiamo già fare un pezzo Che lo deve mostrare da molto avanti Ah sì? Eh Peccato Non lo siamo Non lo possiamo per niente Quindi muovono Socio devi avere meno capelli Nella tua vita Sai che bella avere Un taglio impostato per sempre? Cioè tu fai il taglio Se vuoi è solo quello Sono passati esattamente 5 minuti e 10 Girocchiata Così ho la cosa Sopra mano Anche io prima Inclina Grazie Giriamo 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 Facciamo vedere Facciamo vedere 6 minuti 6 minuti 6 minuti Ho sbagliato la misura Ma muoviti Madonna mia C'è dei capelli Bastardissimi No Socio aspetta il cazzo Non ho tempo Ma il cliente ha sempre ragione Ma il cliente Non mi devi toccare il pisello Ma chi ti tocca il pisello? Ti piace? Ti a tutta le Quasi 8 No Socio no Ho 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 Guarda giusto Dai su Brava broder Bravissimo bravo Finito Devo solo per ripetere Forza 29 8 minuti e 30 8 minuti e 31 Ragazzi ragazzi Che delusione Buona delusione Buona delusione Ce la sto facendo Ma quando ce la fai Ma se me Me la sento buona Non ce la mai mai Me la sento buona C'è un signore Che ci guarda da fuori Signore Tutto a posto No 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 vai No Scusate dura Scusate dura Scusate dura Fermo Fermo Ci siamo Dentata Per finire i dati Quanto siamo? Eh ma so Ti dico pure Che è venuta bene Ti dico pure Che è venuta bene Quanto manca? Vedi ora? No Dobbiamo aggiustare Qualcune robe? Non stare attenti qua Non stare attenti Eh ragazzi Poi mi chiamate Con un rompicoglio Ma non è vero Ragazzi ma non vi venite a mettere Le capelli da burro Ma non è vero No Non la mette Non la mette Non la mette Non la mette Devo farlo così Devo farlo così come viene Mi prendo tutta la faccia Vito Ho tutta la faccia che è pruta Vito Sto impazzendo Vito Sto per scrovare Che ne sono? No 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 Vito Vito Devo pulirti Non so come pulirti Se non c'erano niente Quanto siamo di minuti? Ah I fiocchio Quanto siamo di minuti? Hai perso Quant'è? 15 minuti e 20 minuti Ah boh È mica È tardi È tardissimo È dove ero prima Adesso è finito Ma adesso è finito Dobbiamo ricontrollare tramite il video Se è realmente da tutto a posto O so io che ho la fronte storta O sei tu che sei storto Perché dove vedi storto? Non lo so io Questa va giù Questa è più bassa Questa è più bassa? Ora la darizziamo Ah Vabbè Vediamo dal video come Se ce l'abbiamo fatto a due minuti Ci vediamo per lui Ok raga Abbiamo controllato per l'orario Siamo stati lì Dai Eravamo lì vicini A me personalmente Il taglio piace C'è solo un difetto Che sulla squadratura Non mi ci sono messo Però la sfuma è venuta Sembra fake Eh qua è un po' più bassa Tu sei venuto bene Di quello che ho fatto in negozio Dai Comunque Per la sfumatura Ti do un over Mi piace Per la sfumatura Per quello Per la squadratura Ti do un 2 Ragazzi mi raccomando Lasciate nei commenti Il mi piace E nei commenti mi raccomando Se siete aggettivi La sfumatura è bella Però comunque c'è da Cioè dovete tartassarlo Su sta squadratura Dovete proprio insultarlo Ma non è vero Ma non ci dai Insultare Forte Allora mi faccia Mi faccia vedere L'ultima volta Del taglio completo Però mi raccomando Ragazzi Mi piace Cominiti Iscrivetevi Ciao ragazzi Mi raccomando Insultatelo Però c'è da dire una cosa Sai Mi sono dimenticato Una cosa Per il video E te l'ho lasciato I pelucchi sul collo Cazzo Cioè vabbè Ma allora Come può farmi Incazzare Oggi Vip in camera Cioè Pure i pelucchi Vagio